Manca sempre meno la partita Milan-Spezio, una partita assolutamente da vincere, una prestazione, occorre una prestazione da Milan, una prestazione maiuscola contro un avversario, seppur nelle zone basse della classifica è un avversario che sarà sicuramente molto ostico. Partiamo dalle formazioni ufficiali, Milan si schiererà con il consueto 4-2-3-1 con Magnani in porta, con Florenzi, Calulu, Gabbia, scelte obbligate che però hanno fatto molto bene le ultime partite, Teo Hernandez a sinistra, centrocampo in edito con Krunic e Bakayoko, Saleme Kerr, Brahim Diaz e Raffaele Au e unica punta Ibrahimovic. A disposizione mista ci sarà Tatarugiano in porta, Tatarugiano, Mirante, Calabria, Castieco, Giroud, Rebic, Maldini, Messies, Di Gesù e Stanga. Lo Spezia che scenderà in campo con prove dell'importa, con Amian, Erlich, Nicolau, Reca, Bastoni, Kiewor, Maggione, Chiasi, Verde, Manai. A disposizione di Tiago Motta c'è Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Istrov, Zola, Ferre, Antist, Scherr, Agudelo, Strelec e Bertola. Una partita, dicevo prima, molto difficile, una partita che il Milan deve però assolutamente vincere se vuole credere allo scudetto perché l'Inter ha pareggiato ieri contro l'Atlanta. Una sfida comunque difficile, una sfida importante dove è uscita in qualche modo indenne, non perdendo, ma comunque ha perso punti. Allora serve più che mai una grande vittoria che in qualche modo potrebbe portarci fin da subito in testa della classifica con l'Inter, ribadiamo, con una partita da recuperare ma che permetterebbe di alimentare in un periodo molto difficile a causa degli infortuni e delle positività adesso rientrate. Comunque porterebbe tanta felicità e entusiasmo al gruppo rosso-nero. Lo Spezia dopo aver conquistato la salvezza nella scorsa stagione e la sua prima in Serie A sta provando anche in questa a mantenere la categoria, lo sappiamo. Però ci sono state in qualche modo, è stata combinata una sanzione della UEFA di 500.000 franchi svizzeri e che prevede anche il divieto di calcio-mercato. Il blocco in entrata del calcio-mercato è dovuto all'infrazione relativa al trasferimento internazionale al tesseramento di gioca età inferiori a 18 anni. Quindi ecco un punto debole, un punto che sta condizionando tantissimo la stagione della squadra. Ligure che non ha potuto rinforzarsi e ha perso un giocatore importante del Milan, Pobega, che in qualche modo ha lasciato dopo un anno positivo di grande crescita, ha lasciato lo Spezia per poi andare a giocare con Conte Unite in una squadra un pochino più attrezzata come il Torino. Gli Aquilotti nelle scorse cinque giornate hanno conquistato cinque punti, hanno vinto contro il Napoli e il Genua, pareggiato contro l'Empoli e perso contro la Roma e l'Ellas Verona. Lo Spezia è sedicesimo in classifica con 19 punti, ha il quattordicesimo rendimento esterno con 10 punti, a pari merito con il Cagliari, il sedicesimo attacco con 21 gol fatti e la diciassettesima difesa con 41 subiti. E a pari merito con la Salernitana la squadra che ha realizzato meno reti di testa, solo una. E finora i migliori marcatori della stagione sono Bastoni, Ghiazì e Verde che hanno segnato tre reti a testa. All'andata vincemmo 1-2-1 con le reti di Maldini e Brahimdiaz mentre per lo Spezia segnò Verde. Ma come, cosa ci aspetterà? Come scenderà in campo lo Spezia? Quali sono le sue doti? È una squadra ostica, una squadra che è compatta, una squadra che cerca di giocare molto in maniera, possiamo dire, pratica. Una squadra che cerca, in base al contesto, cerca di andare sempre a finalizzare in meno tempo possibile. È una squadra molto verticale, è una squadra che cerca sempre la verticalità, la finalizzazione, seppur poi le caratteristiche, le qualità tecniche del giocatore, essendo comunque una realtà di medio-piccola, poi non portano sempre a aver successo. È una partita ostica, Focus sarà orientato sempre su di noi, il Milan deve scendere in campo come ha sempre fatto ultimamente, cercando di imporre le proprie idee, il proprio gioco, soprattutto giocando in casa a San Siro dobbiamo in qualche modo gestire fin da subito bene la partita. Manca sempre meno, forza Milan, portiamo a casa questa vittoria e poi ci sentiamo a fine match per fare l'analisi e ovviamente per in qualche modo analizzare come sempre la partita tutti insieme. Forza, forza Milan!